musica 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 la gente che mi scrive a secco registra porca puttana ma sto già io guarda che ho registrato quando ho entrato sono entrato e te scherzi ma io l'internata beh torrate a cosa io no ma mi scrivono davis a me a me io sono io davis dai sei te shiaowase davis 17 guarda questo fa screen 50 euro che questo sta facendo screen oddio voglio screen con asenca con asenca trattino a asenca trattino a iniziamo perché mi stanno scomando e anche a me shiaowdevis oh mio dio ma cosa vuoi ci sei anche tu no vediamo e ci la faccia si ma cos'è sto affetto incondizionato vabbè iniziamo buonasera a tutti e benvenuti anzi super bentornati finalmente nel vgf sono tornato buonasera a tutti a gente che mi chiede fa screen adesso non c'è tempo c'è da fare c'è da lavorare che ho preso per le orecchie questa qui che non voleva entrare dobbiamo andare dobbiamo iniziare vabbè io sono somaro quindi non dico niente e comunque allora ragazzi stendiamo così facciamo gli screen con tutti yeeeh puffatee attacchami qui mi sta ricognonendo ok devissim devissino è uno che mi ha scritto devissimo oh questo mi invita nella soffazione di lì che siamo allo spawn così si tranquillo tanto c'è gente che ci ci fa notare è inutile che provo a scriverlo ci fa notare con calma con calma siamo entrati adesso con calma per piacere eh mi chiedo il tpa no alle già vi state ma dai il nome è bugato uovo uno ha scritto uovo va bene cosa dobbiamo fare qua che non mi sono mai fatto appunti di niente cosa che dobbiamo fare ciao xirus allora cosa dobbiamo fare la fazione forse dobbiamo fare ah ah si facciamola in diretta ah su una due e una davis non accetti tp ah se perché davis non accetti tp a hai capito no ti chiedi in pubblica perché non accetti tp a e vabbè allora dobbiamo fare la fazione quindi f aspetta che questi vogliono le scrivi facciamoli scrivi facciamoli ma scusa un attimo momento serietà momento serietà momento serietà momento serietà ah scusate se vedete la luce spetta mi si è fulminata la lampadina qua e non vedo un cazzo e ho capito o m g o m g ma voglia fare sta fazione oh allora f create e chiamiamo solo great player o great player great player great player f create great player a posto ci posso biedare fazione great player e tornate di nuovo sul vgff fff invite invite asenca e l'invito fatto si ho capito ho capito ci segue cammela eh f except mi f except se non sbaglio E' ripartito dal TS comunque F-Accept No, non è così F-Accept Great Player Non mi ricordo più Great Player Prova, F-Accept Great Player funziona? No Ah, F-Join Great Player F-Join Great Player Ah, c'è 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 potente Non mi ero preparato Mi scusi, non mi ero preparato Per favore E siamo tornati entrambi Facciamo già Poi la metto admin Comunque della fazione Perché adesso non mi ricordo il comato Ma con un po' di ripascio Magari mi ricordo pure quello Ed eccomi qua Accetti allora Mi scusi, spero che non accetti Più David a volte si muove Tipo scatti epilettici Ma sarei tu al massimo che vedi il coglionito Che dici Cosa vuoi te Da lei Questa, diciamo Questa ho iniziato a costruirlo io Un pomeriggio Questa sarà In Grecio In Grecio Toffoclimiamo tutto Sarà tutto Beh, lascio Diciamo che oggi è proprio una spolveratina Ma dai ma che palle Non hai permesso per aprire le porte in creative No, a parte il fatto che Ah sì Vabbè in creative Ma sai che puoi aprirla? Ah perché ho scritto male Azenka Ho scritto Azena Azena Ok Io a volte mi stupisco delle mie scelte Ci sei in cura la scuola Ah Sì sì Ci sono Azena Ah 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 Ok Questo ragazzo mi sta simpatico Mi hanno chiesto di trovare la fazione quasi quasi Questo qua Gli dico di sì me ne frego delle domande Questo è il trapunto Allora Qui mi ricordo Qui abbiamo fatto tante volte di quelle intro Tipo qua seduti Guarda qua così Guarda Così Ah bello Offerta pasta di Natale iniziata Yeee Buon Natale Buona Pasqua Vabbè Una battuta Comunque Quante intro abbiamo fatto qua Io mi ricordo Qua quando sono entrato Io se non sbaglio sono Mafia Tu sei Yakuza se non sbaglio Eh certo Vabbè allora vado dalla Yakuza Che poi ho sempre voluto essere Yakuza eh Però Sti cazzi Eeeh Che poi non mi ricordo Cioè Volevo essere Yakuza La mafia non mi è mai piaciuta Uffa La mafia non c'ha l'invisibility E mafia Questa appunto è una mafia Faffanculo Le spawn Già vedo il coso delle chiavi Che ho già Ah le chiavi leggendarie Sì le chiavi leggendarie Che vabbè è un creates Comunque quindi Ci sta Dentro si può trovare delle armi Ho capito che Puoi avere anche lo shot get Acquistare Una chiave Esatto Sono i pacchetti E pacchetti Com'è che si chiama i pacchetti Eh no no Le chiavi Pacchetto chiavi no Sì ma vabbè Sì ok Pacchetti chiavi E con questi Potete trovare Diverse cose Sia armi Shot get abili Qualcuno ha vinto No no armi shot get abili Qualcuno ha vinto anche un leggendario Ah sì Ah questa non la sapevo Almeno me l'hanno detto Però non so se c'è scritto Boh che Mi hanno detto che hanno letto Cioè che uno l'ha trovato Però non lo so sinceramente Vabbè Aspetta stanno recando Ah gliel'hai detto tu No Minchia ha indovinato al volo Ma chi è che sta Aspetta Eh no lo sa Vabbè la capito Cold fire Ma questo qua mi sta simpatico Ah primordine Che famosa Vabbè Vabbè Questa si sa Sparta E Persia Minchia poi Minchia quando eravamo in Sparta Noi Ma Eoni Eoni fa Madonna Queste qui non c'erano mica poi Quando ti ho griffato Perché mi hai fatto Hai fatto gelare Il nostro capofazione Dettagli Dettagli A parte che quella volta C'era anche con Mamidi Quindi rompi poco Rompi il cazzo Lui che a vita L'ha fatto uscire E lui Infatti io ho griffato entrambe Mamidi non aveva una fazione Più di una volta Però va bene Bello Bella la fontana Bella È il percio Bella la fontana Bella la fontana Bella Bella Bluppate Aspetta ancora Bluppate Vabbè qua è il Warp Pasqua Bluppate È nuovo il Warp Pasqua Sì vabbè Pasquale credo Ah io devo farti vedere una cosa Aspetta Warp Miner Vieni Warp Miner E vabbè E vabbè Io ce l'ho dal cartello Perché io sono povero Ehm Warp Miner Guarda che cazzo Hanno combinato qua Il Warp Miner Cioè Cos'è sto coso Clap Mac Mac Ma Ma che cazzo Quindi helper Se mai vedrete Vedete questo video Vedete di far qualcosa Perché sinceramente Se uno Agli inizi Deve minare Eh non voglio minare Eh non voglio minare Madonna Mi chiedono già di griffare Mia beh Piano con calma Ragazzi Con calma Con calma Con calma Con calma Si attiene tutto Si però assiste Mattina qui per favore Datela Perché fa un po' Pressione C'è un albero qui Bello Il portale No no Il portale Non lo vedo più Perché qua ci sono Dei buchi Ah perché Ha passato tutto Purino Con groviera Con groviera Aspetta fammi uscire Ah le Cos'è Cos'è Di essere questa cosa qua Eh la madonna Che è un groviera Madonna Cos'è un groviera qua Che è successo È veramente qualcosa Che è successo Che è successo Un server Cioè Questa qui Mi ricordo che era bellissimo Come posto Leone Va bene Eh mi scusi Qua hanno decapitato un leone Hanno stagliato una gamba Un leone Mi scusi lei Cioè Avete i miei concchi Del pronto soccorso Da attaccare la gamba a leone Eh Mi scusi Oh qua c'è uno C'è uno nascosto qua dietro Ho trovato l'artificio di tutto Vedi è qua nascosto È nascosto qui dietro No che quello bannano veramente Pensano che sia lui Ma vedi È nascosto qui dietro Vedi Non è riuscito a scappare in tempo Ah mi sono bugata Eh vabbè la vita No comunque qua è pieno È un'accomodazione Non farei È un'accomodazione È un'accomodazione È un'accomodazione Guarda anche qua C'è altri posti Che volevamo andare a visitare Non mi ricordo più io Eeeh Il mio caro è Warp Valentina Come cazzo No non credo Come si va ad Amsterfield Vip normali Vabbè Contrabando Riservata C'è qualcosa di nuovo Warp riservata Non l'ho trovato No riservata Contrabando Andiamo in contrabando No è uguale Non cambia il caso Vabbè Io direi di andare nella nostra fazione E vi facciamo E dividisciamo i modi Per entrare da noi Il I quiz Per entrare Nella nostra Nella nostra fazione No Potresti settarti anche la home Comunque Ah è vero Cioè Otresti una qualche volta Una di queste volte È tipo quello sbagliato Una di queste volte Ehm Vabbè Allora Se vi ricordate ragazzi Feci già una volta Un video su Le domande Per entrare nella fazione Quindi probabilmente Il titolo sarà molto simile Il titolo di questo video A quel video là Non per Più che altro Per semplificare un po' la vita No Anche perché Sicuramente Come ho detto nella live Alcuni Sicuramente Vorranno Entrare per griffare Ehm E come abbiamo già spiegato Qua Noi non avremo Le nostre cose No Tutto ben protetto Non sono le cose preziosi Diciamo Le terrò io Nel mio lotto Quindi se qui venite a griffare Grifate quelli della fazione Quindi ragazzi Grifate le casette Basta La fazione È per voi Iscritti Noi ve la gestiamo Noi ve la Vi Vi buildiamo le cose Usiamo la creativa appunto Per Comunque Sistemarla Poi se Decidete di Magari Dite Guardate Io ho un posto migliore Basta dirlo Cioè E noi magari Vengiamo a vederlo Il posto E magari Decidiamo che Può andare bene Sì Per ora Allora Noi adesso per ora Abbiamo questo Che vedete Non porta Da nessuna parte Cioè Tutto da costruire Abbiamo fatto questo Tanto per iniziare Poi vi fate le vostre stanzette Esatto Diciamo che I primi reclutamenti Li faremo probabilmente In una live Più avanti Piano piano Perché Adesso devi Stare una buona linea Quindi farà tutto lui Ci provo Ci provo almeno Ci provo Perché adesso A parte qualche leggero Pacchetto perso E qualche crash raro La mia linea va molto meglio Di prima Quattro domande Che abbiamo deciso Che dovrete Che Insomma Sapete già le domande Per quando dovete Entrare qui dentro Saranno le seguenti Prima domanda No 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 Aspetta 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 Hai dimenticato una cosa Per Ellie Trus Ah Ellie no Non voglio sganciare la grana No Ellie niente Ellie Per Trus Sganciate la grana Così La nostra fazione Si arricchisce Piano piano Guardate su tutti i soldi Che vanno Per la fazione Per costruire Comunque C'è Saldiceglie Già Gioia Non posso guardare La cia Se no ti è Comunque E supero sempre io Vabbè Facciamo queste domande Che sono Cosa cico toby Ah ciao cico Ciao coso Prima domanda Allora Vediamo un po' Che domandine Potremmo fare La classica La classica Qual è la classica Chi sono Chi sono No Chi erano I cinque componenti Dei great player I primi cinque Da quando sono arrivata io Ovviamente Da quando è arrivata lei Si sono In totale Sono stati cinque Great player Dovete dirci Vogliamo Tutti i nomi I cinque I cinque Great player Questa è la prima domanda Seconda domanda Ehm Papapapapa Qual è la seconda Ah si Qual è stato il primo video Attenzione I cui abbiamo Siamo stati nel primo video Io e Asenka Qual è stato il primissimo Primissimo eh E' una specifica Io e lei La intro O completo Specifica Un video Un video dove c'eravamo io e lei In un video insieme Vogliamo il nome del video Esatto Vogliamo il nome del video Ovviamente che parlavamo entrambi Ricordiamo Ovviamente parlavamo entrambi Non che ha fatto la comparsa In un video Non me ne sono neanche accorto Beh Tutto per dire Che abbiamo parlato entrambi Voglio sapere qual è il primo Ve la domanda questa La terza qual era Mi ricordavo queste due E poi basta Eh da quando Vabbè Ma cosa c'è Lui voleva fare Da quanto Da quanto giocate su VGF Ma che cazzo Ce ne fregano Vabbè Per sapere un po' Se siete pratici Per evitare sempre di spiegare Cioè semplicemente quel Perché altro Perché le domande E' una di quelle antiche Che fece Vabbè Vanno a vedere i nostri video Scusa eh Vabbè Comunque in descrizione Vi lascio le domande di allora Quindi vi capite un po' L'idea di comunque Di come la penso io Comunque Diciamo che queste Sono due domande principali Per capire Chi di voi E' davvero interessato A entrare per Grassplayer Non per minchia Perché non vogliamo Gente che griffo Ovviamente Se poi veniamo griffati Per conti nostri Nel senso che ci trovano E tutto Ok Ma non che facciamo entrare Gente a muzzo Perché non la faremo entrare Gente a muzzo Perché io sono contro Queste cose qui Poi cosa vuol dire a muzzo A muzzo a cavolo Tanto per sapere A cavolo Non è che facciamo entrare Oh mi fai entrare Non tanto per sapere Guarda Mette un cappello elegante Tanto per fare il gangster Visto che siamo nel server Mafia droghe Ehm Altre domande Non me ne vengono Mica in mente Signorina Scusi A me non me ne vengono Mica in mente Nient'altro Se lei viene in mente Altro Lo dica adesso La taccia per sempre Boh Vabbè Domande principali Sono queste due Poi dopo Se volete Spolverare un po' Con qualche vecchia domanda Che feci in quel vecchio video Sarò più che felice Di ascoltare Ovviamente Ovviamente Mettete il nome del gioco Cioè Di voi nel gioco Scusate Che c'ho E quindi Mettete Nome Nome vostro Due punti Poi rispondete Uno Ah Dici nella descrizione Sì no Nei commenti Nei commenti Nei commenti di questo video Insomma Scrivete E saremo felici Ovviamente Non vi diremmo risposta corretta Risposta falsa Se no Quello la cretino Che magari Non lo sava A vedere i commenti Gli ho detto Risposta giusta Fa copia e colla E poi quando faremo la live Che dobbiamo farvi entrare Annunceremo i nomi Su telegram Quindi uniti Al gruppo telegram Che lo annunceremo In diretta Quando saremo Che troverete qui sotto In descrizione Volevo dirlo io Fa più figo Se lo dico io Veramente Quindi mi raccomando Tenete d'occhio Il gruppo telegram Perché lì ogni tanto Qualche cazzata dico Vabbè sicuramente tu Io non scrivo tanto Ah precisazione Se vedere i test nostri in giro Non sono originali Perché Noi non facciamo più Da quando c'è stato Il reset generale del server Quindi vedete voi Come fanno esserci I nostri testi in giro Io non l'ho mai fatto Tanti al massimo Ah voglio dire Che noi non abbiamo niente Da ridire Contro il server Contro il founder Contro nessuno Ecco dai Allora noi non siamo Mai stati bannati Specifichiamo questo Perché molta gente Pensa che noi siamo Stati bannati E abbiamo pagato L'un ban No Non siamo mai stati bannati Non abbiamo mai litigato Col founder Né con un moderatore Anzi che io sappia Non abbiamo niente Contro il founder C'hai parlato C'hai fatto anche Gli auguri natalizi No No Gli auguri Compleanno Compleanno ecco Gli hai fatto pure gli auguri Tranquillamente ha risposto Cioè non abbiamo nessun Niente da ridire Cioè assolutamente Ce ne siamo andati Io mi ricordo Però quella sera È entrato su TS Io ho detto che volevo andarmene Notivi cazzi nostri E buonanotte È stata una cosa velocissima Cioè non c'è stato Noi ce ne siamo andati Per vari motivi Non di sicuro Per colpa Cioè non Di sicuro perché avevamo qualcosa Contro il founder No il founder No il founder non c'entra E poi abbiamo avuto dei disguidi Con altri helper Ok Possiamo ammetterlo Tranquillamente Tanto chi ci conosce Sa Con chi abbiamo discusso E con chi no Però Eh Spacca non fa più parte Dei great player L'abbiamo già detto Mille volte Sì sì Boh Possiamo chiudere il video È pina Con la polpenta Ah poi andiamo su TS Sì Insultiamo un po' Tutte le persone No La gente pensa che lo facciamo Quindi sticati Ho da mandare uno screen Ho diritto Oh io ho rotto caso intanto Quindi bene ragazzi Spero che questo video Vi possa essere piaciuto E vi possa essere servito Quindi questo è il nostro Primo video di ritorno del BGF Mettete like Mettete like Ricordo di lasciare il pollice Se non vi è piaciuto questo video Ricordo di lasciarlo Se non vi è piaciuto questo video Commentatelo Conditelo dunque Anche accesso mi raccomando E niente Cosa vogliamo dire Altre cose Che è finita Possiamo dire Che è finita Anzi Se mi fate un favore Se qualche helper Guarda questo video Mi può sbucare il nome Perché Guardate Ma ti ricordi Che la chat disattivata Tanto non si vede Attivala E ho capito Ho smontato caso Aspetta un momento Ho smontato caso Attivala Un momento Come si faceva Chat setting Ho fatto casino Ok No non va bene Non è perso un cazzo Aiuto Helpatemi Show Ecco fatto Oh scrivi Vada Mi scrivi adesso Adesso ci vede Guardate Aspetta Ecco Ecco Ho sbagliato pure Vabbè Comunque Ho il nome bugato Anche David Ce l'ha Quindi se per favore Potete farcelo sbugare Dettagli tecnici Sapete Vorrei il mio Asenca VIP Divinità immortale Non nero Come il carbone Sì vabbè E dopo questo Possiamo dire Che è Verità Ma perché devi Stringere casa È una cosa Automatica Ormai devo rimontarli Ma ho tutto Stato Sottisperato 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 Sottisperato